Con Mario Ferraro al termine della seconda settimana di allenamenti qui con la BCC NEP le tue sensazioni innanzitutto? Le sensazioni sono positive, la squadra è buona, sono tutti i ragazzi che hanno voglia di lavorare la società non si discute, parla la storia, quindi le sensazioni sono molto positive speriamo sia un bel anno Sì, sarà un giorno di tosse perché ci sono tante squadre che puntano a fare il salto di categoria quindi noi secondo me dobbiamo pensare a noi, quindi a lavorare bene ogni giorno in palestra e poi dobbiamo pensare a fare partita dopo partita e poi vedremo dove possiamo arrivare I tuoi obiettivi personali e quelli di squadra? I personali sono quelli di migliorarmi sempre Tu vieni da una promozione, ricordiamo Sì, magari sarebbe ripetere una promozione quindi sicuramente quello di migliorarmi sempre in tutti i fondamentali e poi il sogno è sempre quello di vincere un altro campionato però è un sogno quindi vediamo se si realizza o no Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!